Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come detto dal titolo sarà il video dei miei prodotti preferiti con prezzo inferiore di 3 euro so essere una delle vostre tipologie di video preferite, me lo scrivete sempre nei commenti iniziamo subito perché questa volta i prodotti sono davvero tantissimi per prima cosa ho scoperto da poco, anzi ho riscoperto da poco questo brand Beauty Big Bang in questo caso ho provato una delle loro palette, ossia la High Shadow Palette 05 è una palette che ha davvero un buon inci e un prezzo ottimo in quanto dovrebbe venire sui 3 dollari poi naturalmente vi lascio i link di tutti i prodotti di cui vi parlo nel video giù nell'info box la palette in questione è questa qui, con tutti questi colori mix fra caldi, freddi e opachi e shimmer sono davvero molto molto pigmentati, vi lascio anche un video in cui realizzo questo makeup con questa palette non mi aspettavo una pigmentazione così alta, soprattutto per i colori opachi questi sono gli swatch delle prime due file, forse i due primi colori non si vedono moltissimo soprattutto a contatto con la mia carnagione chiara, ma sono ottimi per dare un punto luce matt come potete vedere benissimo la terza fila invece è la più pigmentata troviamo colori molto più caldi e molto più accesi come sicuramente avete visto nelle clip precedenti sto provando anche questo set di pennelli davvero molto bello tre pennelli occhi, sempre beauty big bang naturalmente anche questo set di pennelli ha un prezzo ottimo e spesso sul sito si trova in promozione a meno di 3 euro e naturalmente ha le setole sintetiche e hanno un packaging esterno olografico davvero molto carino abbiamo naturalmente un pennello per fondotinta che io ho usato per la cipria mi sono trovata davvero molto bene un pennello per contouring con il quale come potete vedere ho applicato sia il blush che la terra ed infine questo pennello che in realtà sarebbe per cipria ho deciso di utilizzarlo come pennello per illuminante benissimo devo dirvi che sfumano molto bene hanno setole morbide e secondo me un rapporto qualità prezzo ottimo stesso discorso vale anche scusate se li vedete sporchi perché ho realizzato con questi pennelli questo make up pennelli occhi hanno delle setole sintetiche molto morbide e il set è composto da 4 pennelli occhi io ora qui ne ho 3 il primo è questo sia quello angolato non troppo adatto per la sfumatura anche se magari una sfumatura un po' più piccolina riesce a farla questo pennello diciamo è un piatto però un pochettino bombato è ottimo per l'applicazione degli ombretti su tutta la palpebra ed infine questo è ottimo ossia un pennello da sfumatura tutti i pennelli mi sono arrivati in questo sacchettino quindi c'è una grande cura del packaging e ben protetti in queste custodie ho poi trovato un ultimo pennello per occhi che è quello diciamo angolato per applicare l'eyeliner abbiamo anche dello stesso marchio questa bellissima pochette in cui dentro normalmente tengo i pennelli perché mi è davvero molto comoda anche perché è davvero capiente voglio ora parlarvi ancora di un altro pennello che però ho acquistato su ebay se riesco vi lascio il link nell'info box altrimenti vedrò se riesco a trovarlo il più possibile identico da qualche altra parte magari su Amazon o simili questo praticamente è un classico pennello a ventaglio di quelli però non piccolini da illuminante io ho visto questo pennello utilizzato da Kiss & Makeup e da Chiara Facchetti quasi tutti i giorni nei loro video per questo mi sono molto incuriosita e ho deciso di provarlo ragazze, ha setole sintetiche comunque sono molto morbide ma è un pennello fantastico io non me lo sarei mai aspettato per il contouring ultimamente infatti sto utilizzando solo e solamente questo prodotto per applicare la terra fredda per fare il contouring però qui sulle guance perché sul naso con questo pennello non mi trovo molto ragazze, è fantastico perché riesce a prendere proprio perfettamente la forma del viso sono rimasta davvero molto entusiasta pensavo magari fosse un pennello diciamo da sfizio come sfizio perché alla fine ci sono tantissimi ottimi pennelli da contouring ma questo per me è stata una scoperta eccezionale non me lo aspettavo assolutamente se riuscite lo trovate a un buon prezzo come spero di mettervi il link qui sotto prendetelo anche voi e provatelo passiamo ora a due creme mani che sto adorando la prima è una crema mani che sicuramente moltissime di voi già conosceranno e sicuramente avranno già acquistato è infatti la crema mani da ricetta biologica mandorle carité con estratti 100% bio della pH bio che è una linea che come sapete trovo sempre da Lidl è priva di parabeni paraffini oli minerali cocamidea pegs less sls è un prodotto certificato iab contiene 75 ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi vabbè questa crema ragazzi ha un profumo eccezionale secondo me è una delle creme delle creme mani con profumo migliore che abbia provato in tutta la mia vita però ragazzi oltre ad avere questo profumo ottimo è una crema fantastica per l'inverno perché comunque nutre benissimo le mani le lascia morbide le lascia profumate impiega un pochettino di tempo ad assorbirsi però ragazzi è un prodotto che secondo me vale assolutamente la pena provare almeno una volta e ha un prezzo mi sembra di 2,49€ 2,99€ circa l'unica cosa per reperirla capisco che è un pochettino difficile in quanto dovete recarvi da Lidl proprio il giorno in cui abbiamo la PH Bio in edizione limitata e lì accaparrarvi appunto il vostro prodotto preferito e ora sto valutando anche come ottima crema mani questa della Sienne Natur che era sempre una limited edition ossia la Sienne Natur crema mani a latte da Sina Bio contiene 75ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi anche questa ragazzi ha un inci ottimo è nickel tested allora è una crema nuova quindi mi rendo conto che in questo video vi può far pensare ecco Marzia non l'hai neanche provata la promuovi a prescindere no assolutamente sto provando da circa una settimana e ragazzi mi sto trovando bene il profumo mi piace mi sta piacendo inizialmente non lo adoravo moltissimo ve la consiglio assolutamente perché appunto ha un prezzo inferiore di 3 euro è un buon prodotto secondo me perché in questo periodo in cui non fa molto caldo mi piace più questa tipologia di crema perché nutre le mani ma allo stesso tempo non le fa sudare perché perché si assorbe molto facilmente ma lascia comunque la pelle nutrita idratata e allo stesso tempo profumata un altro prodotto che mi sta piacendo moltissimo che poi è quello che ho applicato sulle labbra è questo Matte Liquid Lipstick di Beauty Big Bag è infatti un rossetto liquido con questo colore molto intenso e molto elegante si chiama numero 01 Katrin dovrebbe venire sui 2 dollari vi faccio lo swatch per farvi vedere che è un prodotto che sto apprezzando davvero moltissimo sulle labbra sembra un pochettino più scuro ha uno scopolino molto particolare perché vedete è tagliato e questo permette di applicare bene il prodotto soprattutto nei lati delle labbra mi piace davvero moltissimo anche la colorazione lo sento che non le secca moltissimo naturalmente essendo un rossetto liquido matt tende un pochettino a seccare le labbra questo è normalissimo però non è affatto male devo dirvi poi che si asciuga con molta facilità e questa cosa mi piace molto tra i prodotti Sienne mi sto trovando molto bene con queste salviettine struccanti che dovrebbero avere un prezzo di 1,79 euro massimo 2 euro la confezione contiene 25 salviettine struccanti hanno un inci ottimo oltre ad essere un ottimo prodotto soprattutto per struccare il viso non le utilizzo molto sugli occhi perché vado sempre con uno struccante specifico mi piacciono perché hanno questa apertura in questo modo e anche se magari le salviette sono fuori non perdono la freschezza insomma la prima salvietta non è mai secca come vi dicevo struccano benissimo soprattutto il viso anche terra fondotinta blush anche sulle labbra non sono niente male sui rossetti liquidi rossetti eccetera vanno benissimo anche per le sopracciglia però ragazzi io preferisco sempre qualcosa di specifico devo dire che le utilizzo soprattutto la sera quando non mi va di struccarmi che magari torno tardi o quando sono di fretta comunque ragazzi con questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao